Ancora incendi nel fine settimana a Paternò, l'ultimo questa notte, su corso Papa Paolo VI a ridosso delle abitazioni. Anche in questo caso è andata in fumo una zona a sterpaie. Le fiamme sono esplose poco prima delle tre di questa notte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Paternò. Non chiaro se si sia trattato di un incendio doloso, restano i dubbi, visto che i continui ruoghi da giorni minacciano case ed esercizi commerciali in diverse zone della città. Per porre un freno a questo fenomeno dei roghi, in città è scattata un'attività di controllo del territorio ad opera dei carabinieri della compagnia di Paternò. L'ultima azione nel fine settimana, con il supporto dei colleghi dello squadrone Li Portato Cacciatori di Sicilia. Sotto controllo sono finite le aree rurali di Contrada Poira e nei pressi del sito archeologico di Poggio Coccola. Grazie all'attività portata a termine, sono state identificate 36 persone tra allevatori e agricoltori. Al termine di una continua e articolata attività informativa sul territorio, i militari della sezione operativa della compagnia di Paternò hanno accertato il pascolo abusivo su un'area percorsa da incendio nelle scorse stagioni estive e per questo sottoposta a vincolo sulla destinazione d'uso decennale. Sul posto erano presenti al pascolo diversi capi bovini, tutti fotografati e poi identificati tramite il marchio auricolare. Gli animali erano di proprietà di tre diversi allevatori, sono stati tutti denunciati all'autorità giudiziaria responsabili di pascolo all'interno di proprietà private.